Non c'è neppure più una norma buona fede nell'ambito di questo accordo, quindi si sfiducia un ministro buona fede per cosa? Lo si insulta pubblicamente, per cosa? Perché ha fatto in passato quando era giovane, si è trovato qualche serata in discoteca, non so se è vero, a fare il DJ? Io lo conosco perché ha preso un dottorato di ricerca all'Università di Pisa, ma ripeto, sono tutte cose che da un partito di opposizione, che volesse fare l'opposizione in modo aggressivo, in modo secondo me anche maleducato, si possono accettare. Da un partito di maggioranza, chiedo agli italiani, si possono accettare queste cose?